Noi abbiamo ricevuto una lettera da Deborah dove ci chiedeva aiuto per la sua patologia, una non buona scelta agita cronica che la tiene a letto da diversi anni, dove le istituzioni purtroppo per un caviglio burocratico non vogliamo entrare in merito perché poi c'è l'aspetto legale che va avanti. Però noi non potevamo sottrarci come associazione socioculturale di poter aiutare Deborah e quindi abbiamo organizzato diverse iniziative tipo la pedalata solidale grazie anche all'amministrazione comunale, grazie all'impegno del sindaco, del vice sindaco, dell'assessore alle politiche sociali. Ci siamo attivati da subito per una raccolta fondi. Oggi sottoscriviamo un importante protocollo con il comune di San Giovanni di Adino a fare in modo che Deborah possa ripropiarsi della sua vita, quindi attraverso delle cure purtroppo a pagamento, dico purtroppo perché il diritto alla cura è sancito dalla Costituzione italiana e qui forse non è un caso che rientri con Deborah. E quindi noi faremo in modo di esprimere la massima solidarietà, ma chiediamo a tutti i cittadini abruzzesi, non solo perché la campagna parte da San Giovanni di Adino, ma coprirà tutto il territorio nazionale per la raccolta fondi affinché Deborah possa curarsi e ritornare a vivere. C'è un IBAN a disposizione di tutti coloro che volessero dare una mano? Sì, attualmente c'è un IBAN, ma stiamo aspettando il numero solidale, il 4545, perché chiunque poi possa donare attraverso un sms un contributo a Deborah. Anche il comune di San Giovanni di Adino scende in campo in favore di Deborah, oggi c'è stata la firma di questo importante protocollo. Sì, non ci poteva fare a meno di affiancare una iniziativa del genere di questa nostra cara concittadina che oggi ha una seria difficoltà, ha bisogno di aiuto, noi siamo pronti, grazie al Corea Nazionale che ha lanciato questa sottoscrizione, che da oggi, possiamo dire, è partita. È partita, speriamo che porti i suoi buoni frutti, perché Deborah ha bisogno di tutti noi. Noi come comune, ok, abbiamo messo la faccia, ma sono certi che tutti i cittadini ce la metteranno, come sono pronti a mettere un piccolo ma importante contributo per fare in modo che la cara Deborah, ripeto, torni a vivere in modo giusto.